Ma veniamo all'Esgard, me l'avete chiesto voi, è stata una domanda di alcuni di voi che mi avete chiesto appositamente di parlarvi di questo farmaco e quindi ho detto perché no, non ne avevo mai parlato in precedenza se non all'interno dei discorsi più generici sulla lesmagnosi Ma visto che in questo periodo incominciate ad andare in ferro e i vostri veterinari incominciano a proporvelo, magari ne parliamo un attimo nel dettaglio Il Lesgard è uno sciroppo che contiene Don Peridone, il Don Peridone serve fondamentalmente a stimolare la risposta cellulomediata, quindi la risposta immunitaria contro l'infezione da lesmagnosi Quindi diciamo che questo è un trattamento farmacologico preventivo, è proprio un vero farmaco, ok? Che va a migliorare la risposta immunitaria che viene convolta in prima battuta nel momento in cui il cane riceve una puntura da un flebotomo contenente lesmagnosi Viene somministrato una volta al giorno per 4 settimane consecutive e a quel punto copre per i 3 mesi successivi Quindi dopo 4 mesi in tutto dall'inizio della terapia si deve ripetere un altro ciclo Questo ovviamente se si vive in una zona endemica Se invece si parte per le vacanze si può fare un unico ciclo un mese prima di partire Quindi in modo da avere l'efficacia completa della terapia quando si è in vacanza Il Lesgard ci darà la sicurezza al 100% che il nostro cane non prenda lesmagnosi? Certo che no, se no non saremmo qui a parlarne perché avremmo scoperto il santo graal per combattere lesmagnosi E invece ovviamente non è così Però ha una buona percentuale di copertura Vi metto un articolo con anche il link in cui vi fa vedere uno studio purtroppo molto limitato Fatto su un anno e poi un secondo anno Quindi come sapete c'è sempre questo limite temporale negli studi che risguardano alle lesmagnosi Perché sono studi sempre molto brevi Però è quello che abbiamo Quindi ve lo metto per leggere i dati Non fatevi tanto tra l'inganno Perché il 77% che può sembrare un numero alto In realtà in due anni non è tantissimo Vuol dire che andando avanti con gli anni Questa percentuale cala sempre Inoltre il limite è che è stato fatto un gruppo di controllo di cani non trattati Quindi abbiamo cani completamente esposti senza nessuna protezione E cani trattati Diverso sarebbe stato se si ritratta con l'antiparassitario Con il repellente ad esempio E agli altri dodomperidone cosa succede? Oppure se è un gruppo dodomperidone e repellente E a quell'altro gruppo do solo repellente Cosa succede? Questi sarebbero Sono tutti quei quesiti che saltano fuori Quando si va a leggere in maniera critica lo studio Però questo è un dato che abbiamo Teniamolo lì Comunque degli effetti collaterali Di questo tipo Non pesantissimi come dite voi Ma si possono essere Una domanda che sicuramente mi farete Quindi d'anticipo è Ha effetti collaterali È pesante come dite voi Mi dico sempre che non si dice pesante Però mi dite sempre se è un farmaco è pesante Allora È sconsigliato in tutte le cani Che sono predisposte a gravidanze isteriche Perché comunque da galattorrea Può dare galattorrea Aumento di volume delle mammelle E quindi si può avere Il domperidone viene poi utilizzato Anche nella terapia Di cani che sono Siropositivi Alla lesmagnosi Con livelli anticorpali Da bassi e moderati Ma questo è tutto un altro discorso Rientriamo nel piano terapeutico Per quanto riguarda la profilassi Quindi il santo graal Per combattere alle lesmagnosi Non esiste ancora Abbiamo visto che ci sono tanti rimedi I repellenti sono al primo posto La vacanza può essere un buon rimedio E infine il vaccino Ciao Se avete domande fatele qui